1, 2, 3, 4, 5, è il numero 1, ci stiamo vedendo tutti questi 4, 6, Certo, non riesco più. Ciao, ciao. Quando io comando, che so dove andare dovete seguirmi, non me so giù, tu comando? E ci sei che va giù, e su passami, salta quella dopo ! Ma sono saltato ? Ma que dubbi ! Daniele! Domenico, domicili da me! Non, mi soli fai tanto, non potevo dire. Non fai du boucho! Vi faccio le boucho, tu ti ho fatto? Non, 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 non!